Ragazzi, saluto tutti quanti i nostri followers, guarda le umbrature, e oggi cosa c'è? Cosa c'è come video? C'è, Metal Detector, prezzi ok, la promozione di Black Friday, e allora vedo che i followers crescono a questa misura, anche oggi un paio, e saluto a fare la promozione di Black Friday, che anche senza Friday non guadagno niente, traduco, cosa vuoi che faccio la promozione di Black Friday, che quando non c'è Black Friday guadagno poco, anche senza Black Friday come prezzi, perché vi faccio sempre i prezzi più bassi che posso, Black Friday o non Black Friday, i prezzi sono sempre bassi, e lo sapete, perché vi tratto bene a tutti quanti, perché come dicevo l'altra volta, io non faccio pubblicità, così riesco a sbassare un po' i prezzi, in quanto voi altri gentilmente mi girate tutti i vostri amici, se vedete qualcuno che gli serve un cerco a metallo e dice vai da Stefanone che ti fa un prezzo d'occasione, passa uno per la strada in bicicletta, gli chiedete ma vi serve un metal detector? E lui no, ah va bene perché c'era Stefanone che li vendeva, se vi serve, sapete che li ha lui. E qui cosa abbiamo? Qui abbiamo diciamo una serie di metal detector che vedo che sono quelli che ci chiedete di più in maggioranza, in maggioranza, e qui ci sono quelli prezzo, qualità, potenza, quelli più gettonati, mi sono dimenticato di mettere il garettino, poca paletta, il garettino AC 250 non ce l'ho messo, e allora partiamo col garettino AC 250 che viene 199 euro compreso spedizione, sempre della serie garettino AC 300i 270 euro compreso spedizione, e il 400i 370 euro compreso spedizione, tutti e due con gli accessori, mettiamo pure il multifrequenza di casa Garrett, il più moderno, il Apex a 455 euro compreso spedizione, e lo sapete, che con Stefanone avete sempre un'ottima manutenzione diretta, e vi arriva dalla Garrett italiana. E poi dopo cosa abbiamo? A partire dal basso abbiamo il bellissimo Simplex Light, che viene prezzo buono 197 euro, questo subacqueo a 5 metri, poi partiamo a crescere di prezzo, partiamo a crescere di prezzo, c'è, che qui non c'è, il Golden Mask GM1+, con 3 manopole, che viene 220 euro, e qui abbiamo lo stesso similare, un po' più potenziato, cioè modernizzato, col display grafico, display VDI, regolazioni di sensibilità e discriminazione, e i due volumi, volume del ferro, volume generale, e questo col display grafico, questo Golden Mask GM1, ha un spettacolare riconoscimento degli oggetti, grazie al grafico, molto utile, e ha tutta l'asta in carbonio telescopica, tutta in carbonio anche, sotto tutto, tutte le lastre, e una bella bovina, 11x13, 250 euro, gli do anche la spedizione spedito, poi proseguiamo sempre a partire dal basso verso l'alto, il bellissimo Minelab XTR Pro, lo vedete che qui dove c'è il dito, vedete il dito, qui questo è il Minelab XTR Pro, è entrato nel mercato, ha fatto un gran successo, e questo è il Subac, oppure lui, ha 5 metri, ottima stabilità, e contattatemi che vi faccio un prezzo speciale, poi proseguiamo ancora andando in su, con i prezzi, e qui abbiamo il bellissimo Piratone Apolonia Gold, che è un analogico a manopole, ma che tira la bestia, con manopole a sensibilità, discriminazione, e soglia suono, questo è quello Pro, che ha anche il tipo di ricerca, sia automatico che bilanciamento manuale, e viene 320 euro, prezzo buonissimo per un metal detector così, che Michele, da quando che ne ha provato uno, e ha visto che è o meglio che il suo metal detector, che non so quanto ci abbia dato, un migliaio di euro, ne ha comprato un altro, ha venduto i suoi due metal detector, e nel suo terreno, altamente mineralizzato, altamente ferroso, dice che va molto bene con la Polonia, col Piratone, ovvio che tutti i metal detector, tutti i metal detector nei terreni normali vanno bene tutti, ma quando il terreno e il gioco comincia a farsi duro, i metal detector duri cominciano a giocare, e allora questo è uno che comincia a giocare bene, perché è come prezzo buono, e ottima potenza, e ricerche in profondità nel terreno ferroso mineralizzato, è un ottimo strumento, a Polonia Gold, detto Piratone, 320 euro, poi proseguiamo con i visualizzazioni dei metal detector, e abbiamo, questo è un super metal detector, ma io ve lo dico, e diciamo che rompo un po' le palle, ma tutti quanti i clienti che lo usano, che l'hanno imparato bene, vedi Marco, vedi, sono due i Marco che ce l'hanno anche nel nostro gruppo, anzi più di due, ce ne sono già tantissimi in giro, è l'erede del GM5-6, GM6, e questo è il GM7, super potente, super sensibilizzato, tira da bestia, 360 euro, vi regalo anche la spedizione, regolazione del power box, potenza trasmittente, boost, potenza ricevente, un bellissimo display grafico, che quando fa la piramidina, hai capito, stretta e si indica nella posizione dell'oggetto sotto, vedi che è un oggetto monometallo, quando fa tante righe verticali, sballona, è segno che l'oggetto è ferroso oppure di leghe, questo lo dico sempre, perché è importantissimo questo display grafico, che ha sia il GM1 e sia il GM7, perché riconoscete molto bene gli oggetti che sono sotto terra, sensibilissimo all'oro, a 4 frequenze, dalla 4 alla 44 kHz, non gli scappa niente, è universale per tutti i terreni, e anche lui già l'asta in carbonio telescopica, la super bobina, la più moderna, una 7G, settima generazione, 11x13, dove passi con questo, fai una strage, per trovare di più, prendi un GM7 nel prezzo dei 360 euro, fra i più evoluti, fra i più potenti nel mercato, non si mette a cedere nel terreno mineralizzato, ferroso, e ti diverti, ecco, poi dopo cosa abbiamo? Dopo i 360 euro, passiamo col bellissimo Desert Gold, il cammello, e lo sapete che io questo è un metal detector che tengo su, ma oltre che l'ho inventato io, lo inventai nel 2012, quello ancora tutto color sabbia di deserto, il cammello, perché realmente per trovare di più, per trovare gli oggettini che passate in tanti, non si trova più niente, provate il Desert Gold, perché vedrete che si trova ancora qualcosa, eccellente profondità, fatti i test nel muro di cemento armato, con colonne e tondini di ferro, hai capito? Il pin pointer sente il ferro nel muro a 8-10 cm di distanza, e si bilancia, si stabilizza, e passa il muro con altre 10-12 cm di pietre, 42-43-45 cm di profondità, passa il muro, le pietre sente la moneta dall'altra parte del test, dall'altra parte del muro, questo tira da bestia, vuoi trovare di più? Vuoi andare in profondità, che nella tua terra hai oltretutto dei terreni ferrosi, sabbie nere, sabbie nere, sabbie nere, op, si è incantato il disco, e terreni neri, calestro, argilla, con questo Desert Gold qui se lo provi, vedi quello che è stato rimasto indietro nel tempo, dagli altri Metal Detector, 500 euro, prezzo speciale, Black Friday, o non Black Friday, io ho sempre dei 500 euro il cammello, e ti diverti, per trovarti più, prova il cammello, e vedi tutto quanto quello che viaggia nel terreno, poi Desert Gold, 500 euro, anche lui, aste in carbonio, e lo segni con la bobina, chi uno vuole, o l'11 e mezzo, o la 12 per 12, che sono le più richieste universali, si può mettere per fino la 15, la 15 per 18, per trasformarlo in un Metal Detector, da grandi masse, grandi profondità, 500 euro, poi dopo cosa abbiamo? Abbiamo il Legend, Nota Legend LG30, il nuovo modello LG30, con la nuova bobina LGTentra, multifrequenza simultanea, multifrequenza simultanea, va molto bene, stabile in tutti i terreni, in mare, in battigia, impostato bene, non lasci indietro un colpo, un bel display con tutte le regolazioni, questo contattatemi perché vi faccio un prezzo speciale, poi proseguiamo, proseguiamo con la visualizzazione di tutti gli apparecchi, ed arriviamo a un Metal Detector, che è un gioiellino, il Gauss, Mars Gauss, anche questo dell'Europa dell'Est, tutti i Metal Detector dell'Europa dell'Est fanno dei tiraggi, dei ritrovamenti, delle potenze sparverse, Gauss 640 euro, compreso spedizione, sempre vi arriva dalla ufficiale distribuzione, taglia, assistenza diretta, e questo ha una linea che è un gioiellino, a parte la linea, una centralina sfilabile, un bel display grande che si vede che è uno spettacolo, numeri grandi, asta in alluminio Ergal leggerissimo, l'ultima parte in carbonio e ci puoi mettere le bobine che vuoi, S con la 10x14 e opzionali ci puoi mettere la 7 per gli oggettini piccolissimi, o ci puoi mettere la 13 ma anche la 15 per masse grandi in profondità, lo trasformo in un Metal Detector da profondità, questo qui ha una tecnologia sia impostabile a classica, tipo di ricerca analogica, tipo in Metal Detector di una volta, e tira da bestia, e tira da bestia, e lo consiglio, se uno è in un terreno che non dà tanto radio disturbo, mettete la ricerca analogica, classica, che va giù, che è uno spettacolo, e poi c'è altri due o tre tipi di ricerca microprocessorate del segnale che dà il terreno e l'oggetto a digitalizzate per avere più stabilità nei segnali e nell'audio, anche nei terreni più ostici, sabbie nere, terre nere, tutto quanti terreni più difficili da andare, con questo Metal Detector lo impostate bene e non ha paura di niente, elevate potenze, guardate anche nei video che ho fatto, rileva le monete 40-45 centimetri in aria e sottoterra la bella di questo qui, ma tutti questi Metal Detector sotto terra perdono, ma perdono poco, e questo, anche questo Gauss Mars, da 640 euro compreso spedizione, un gioiellino, è leggerissimo, ormai si invola, peserà circa un chilo e cento con la bobina, molto bilanciato, fa dei lavori, non lascia indietro niente, vero consiglio, perché è un bellissimo Metal Detector, molto stabile, regolato bene, non vi scappa un colpo e anche questo è universale per tutti gli oggetti, tutti i terreni, perché ha due frequenze, la 18 e la 44 kg e che potete affrontare a qualsiasi tipo di ricerca e terreno, poi andiamo avanti, andiamo avanti con Rutus Versa, questo è un altro Metal Detector dell'Est e anche questo tira da bestia, è addirittura, questo diciamo che ha tutto, ha tutto, è subacqueo a due metri e mezzo, display grafico, poi ha il spettrometro per vedere l'analizzatore di spettro di tutte le frequenze che sono nell'ambiente e scegli quella più idonea, quella dove c'è meno radiodisturbo e la trovi subito immediatamente per avere la meglio stabilità ed è sia monofrequenza che multifrequenza simultanea, ha quattro tipi di modi di ricerca fra spiaggia, battigia mare, fra parco, fra campo e all metal e oltretutto si può impostare con sia modo dual, sia utilizzo all metal più discriminante che solo discriminante e ha imparato bene, imparato bene, che uno che lo impara bene riesce anche ad andare in modo all metal non discriminante, cioè scusate, all metal non motion discriminante, ha talmente tante cose che Stefanone si impampina con un quaglione e allora avanti quei carri, anche questo c'ha l'asta telescopica che si riduce molto corta, l'ultima mi sembra in carbonio e altre due sono in alluminio, Ergal molto leggero e robusto, poi Rutus Versa, prezzo speciale, contattatemi che rimane a bocca aperta e tra l'altro ne ho anche uno usato, quello di videotest, naturalmente ha qualche segno nella bobina e vi faccio un prezzo speciale, poi continuiamo con la presentazione e abbiamo i due mine lab equinox molto conosciuti, gli eredi del 600 e 800 e questi sono il 700 ancora più potenziati e più sensibilizzati e resi stagni a 5 metri anziché 3 metri sovacquei degli altri, 5 metri e sono anche stati più stabilizzati, io li ho provati, ho provato il 900, ho fatto tutti i video, guardateli nel sito internet metalldetector24.com che è un bel strumento, lavora bene, stabilizzato, ha delle ottime prestazioni, contattatemi che sia per tutti questi due modelli, vi faccio un prezzo speciale, specialissimo e poi qui abbiamo il top dei top insieme al Desert Gold, insieme al Desert Gold che viene 500 euro spedito, la tecnologia è la stessa, l'elettronica è la stessa, l'EDS ma con la frequenza abbassata a 4,8 kHz, cioè si pianta nel terreno che non gli scappa niente, se c'è qualcosa viene fuori, dove passa un Detec Relic Striker non cresce più niente, hai capito? Non addormentatevi perché sto continuando, dove passa il resto, 690 euro, prezzo speciale, grande sconto, in più del Desert Gold ha circa la variazione dei toni, ma secondo me è messo su doppio tono, cioè che suona ferro a tono basso e oggetto buono, fa la scampanellata, tono alto va già più che bene, questo tira da paura, esce con la bobina, 15x18 camo, una bobinona da profondità per grandi e medie masse, ma che è sensibilissima, sente addirittura anche le monetine, io non riesco a capire come faccia ad avere una sensibilità così, perché? Perché sicuramente fa un campo magnetico molto denso e molto potente, guardate tutti i video che trovate in giro e vedrete che se non è il più potente che è al mondo, ci manca poco, Detec Relic Striker, 690 euro, all metal non motion, pin pointer, percentamento oggetto, regolazione e bilanciamento, sia manuale che automatico, il manuale che impara bene rende un altro 10% in più di quello che fa in automatico, Super Metal Detector, Detec Relic Striker, non gli scappa niente, 690 euro, vi regalo anche la spedizione, con Stefanone, c'hai anche la spedizione pagata, la pago io, faccio l'americano, e poi abbiamo il Non Plus Ultra, il Non Plus Ultra dei Metal Detector, che mi è proprio arrivato da poco, l'ultima, la nuova versione, il Tarsacci, il Tarsacci, ha una centralina, ha una linea, ha una meccanica eccezionale, la centralina mi prende metà del palmo della mano, ma si vedono bene i tasti e si vede bene un bel display grande, numerazioni grandi, e questo l'ho provato, tira da bestia, anche questo è uno dei pochi che passa il muro, il test in cemento armato con i tondini di ferro per simulare i terreni più ferrosi, con magnetite, con sabbie nere, terri nere, calestro, è trapanante, a parer mio è il Metal Detector che c'è più potente in giro, costa tanto, 1990 euro, e vi faccio un prezzo buono in ogni caso, e qui siete tranquilli che prendere un Tarsacci, affrontate tutti quanti i terreni senza paura, è subacchio a un metro e mezzo, a tutta l'asta, anche la maneglia in carbonio, professionale, di alto miglievo, alta qualità, anche le porta pile, estraibile, intercambiabile, caricabile con caricatore, è lavorata con carbonio e a macchina, utensile CNC, un gioiellino dell'elettronica, costa tanto, vorrete sapere come funziona, ve l'ho già fatto vedere, ci sono tanti video, ma ve lo do lo stesso noleggio, mi pagate i 1990 euro, lo tenete una settimana, se siete contenti lo tenete, se non siete contenti me lo rendete, vi tolgo solo 150 euro del noleggio, perché giustamente lo provate nel vostro terreno e con Stefanone fate sempre un affarone, e allora tutti questi sono, e anche questo ha quattro frequenze, quattro frequenze che parte da sei e arriva a 18 kHz, ogni frequenza metallo e tetto universale per tutti i terreni, per tutte le ricerche, la bobina vi doverò già con quella più potente, la 12 pollici, ci sarebbe anche la 9, ma ve lo do già con più potente, la 12, Tarsaci, 1990 euro, un gioiellino, provatelo, perché sarete soddisfatti, specialmente, più il terreno è duro, più il terreno è ferroso, magnetite, fate poste per loro le monete, quando il gioco si fa duro, il Tarsaci comincia a giocare, e allora ho fatto la promozione di Black Friday, che ha praticamente, i prezzi sono sempre gli stessi, perché lo faccio tutto l'anno, perché con Stefanone avete sempre i prezzi migliori, non solo a Black Friday, ma sempre durante tutto l'anno, ditelo agli amici, che ce li faccio a prezzi tutti quanti felici, ciao a tutti!